Speriamo che non ci scappi con questa confusione. Quanta grazia di Dio. Ti sorvegli sotto passaggio all'ingresso. Dona Dio e buon figlio. Quattorda, sono quattordici, eh, le veremo. Andiamo, Tose, forza, andiamo. Io conto su di te, Amelia, fate bene attenzione, state unite e vicine, in guardia con tutta la confusione. Oh, mi raccomando. Polizia, favorisca i documenti. Attenzione! Antumena sì, al binario numero sei. Al binario numero sei, il primo treno speciale del Vercelli, riservato a Demondalizzo. Caramelle, biscotti, mica male, eh, per le mondie. Non passà la via, ti abbiamo fatto una colletta. Ma quest'anno gli portiamo solo un po' di roba da mangiare. E ti da chi trovai? Porti anche tu qualche regalo? Porto auguri. Sì, basi e contante. Qualtrade granata? Poca storia. Vali in alto. Andiamo. Vieni con me. Aiuto, aiuto! All'altro, all'altro! Corretagli dietro! All'altro, all'altro! All'altro, all'altro! All'altro, all'altro! All'altro, all'altro, all'altro! All'altro, all'altro!